Una domanda perché non sono una giornalista, ciao Davide! Ciao Davide, dove sei? Caro Mito22 alias Davide Polo, no mi diceva tua moglie che, no mi diceva che era abbastanza sorpresa del fatto che io vado su Delegasse ogni tanto, lo faccio perché secondo me avete un modo, un modo civile e veramente appassionato di commentare cose, tranne qualche coglione. C'è altre volte che mi chiedono proprio per le ore, io dico no, lascia stare, che se ne frega, però è ancora molto figo, ciao Davide, ciao Davide, certo Mito22, si sa, l'esituzione.